buonasera a tutti ragazzi youtuber e tiktok sono venuto in un posto nuovo castagno misto quersio dove all'incirca ci viene mio amico Gigi oggi un cielo è partito allora sono venuto nei suoi posti vicino via non proprio un 2 al 2 e so Gigi dopo la sbarra camminando verso la vetina dopo la vetina c'è un sentiero scende giù no? o c'è un tagliato e si arriva quasi in fondo al fosso tu mi capisci no? ne ho trovati tre o quattro anche un po di galletti stranamente ma qua giù c'è un affare di funghi anche se piscano guarda questo che nocciolo sarà 450 mezzo chilo vai un saluto a Vienna vai